Tankable purtroppo ha un approccio alla grafica abbastanza ferraginosa, non è semplicissimo da utilizzare, la documentazione è veramente scarsa. Proviamo oggi a utilizzare il componente canvas con uno sprite e farlo muovere. Iniziamo subito. Partiamo con un'app vuota, con uno screen, andiamo ad aggiungere il componente canvas che serve per disegnare, comunque interagire in modo grafico con lo schermo. Questo occupa tutto lo spazio disponibile, come vedete ha già incluso uno sprite, quindi una figura grafica. Lo sprite ha un genitore chiamato sprite type e poi ho la parte vera e propria dello sprite. Nello sprite type possiamo andare ad aggiungere le figure, quindi i disegni eventualmente che vogliamo associargli. Uno sprite può avere più immagini associate, quindi possiamo andare a scaricare un'immagine a nostra scelta e poi caricarla qua. Facciamo choose file, io ho scaricato un piccolo alieno, faccio apri, viene caricato, dopo pochi istanti dovrei trovarlo di qua. Ok, è stato caricato, ho selezionato qui lo sprite type, vedete che ho il campo picture list. Se apro questo selettore trovo qua l'immagine che ho caricato, quindi faccio add, viene aggiunta, posso a questo punto eliminare la marmotta che non mi interessa e useremo semplicemente questo tipo di sprite. Trovate qui sotto lo sprite che si è modificato e ha preso proprio l'aspetto che abbiamo selezionato. Andiamo nella parte dei blocchi. Nella parte blocchi posso andare a interagire col canvas. Si crea proprio una sezione canvas, nella parte eventi ho il when pointer is down on canvas, cioè quando tocco il canvas. Purtroppo in Tankable la gestione grafica non è assolutamente molto semplice, è abbastanza indigesta. Anche per fare cose semplici bisogna sudare un po'. Vogliamo andare a mettere, a spostare il nostro alieno nel punto in cui tocchiamo col dito sullo schermo. Per fare questo dobbiamo andare qui sulla parte motion, troviamo move sprite to, questo va a spostare il nostro sprite 1, l'unico che c'è. Per andare a posizionarlo dove tocchiamo col dito, dobbiamo andare anche qua sotto la parte motion a cercare un metodo particolare. E troviamo questo blocco, canvas Active Pointer X. Lo vado a trascinare sullo schermo, lo copio e lo incollo perché me ne servono due. Uno mi serve per prendere la posizione X sullo schermo, quell'altro lo modifico, metto Y, mi va a individuare la posizione Y. Carichiamo l'app sul telefono per vedere che cosa succede. Ecco l'alieno, semplicemente toccando lo schermo vado a spostare il nostro alieno. Per fare le cose più complicate potremmo aggiungere il giroscopio. Quindi vado sulla parte design, cerco il giroscopio, lo vado a trascinare sullo screen, mi appare sotto. Verifico che sia abilitato. Torniamo nella parte dei blocchi. Quindi nella parte blocchi, qua, posso andare a spostare il nostro alieno utilizzando il giroscopio. Sotto l'oggetto giroscopio ho WhenGiroscopeChange, quindi questo è il metodo che ci servirà. Mi creo due variabili che userò per memorizzare la posizione ricavata dal giroscopio che poi voglio applicare al mio sprite. Quindi creo la prima, la chiamo app, la chiamo semplicemente x, inizialmente possiamo anche dargli un valore. Mettiamo un valore iniziale, mettiamo 100, copio il blocco, lo chiamo y, anche questo a 100. Questi qui potremmo poi iniziare per dare una posizione iniziale al nostro sprite. Quando il giroscopio rileva un cambiamento, andiamo a modificare queste variabili, quindi farò SetUpX2, vado a prendere il valore che mi interessa nel mio giroscopio. Quindi apro il giroscopio, qui prendo l'elemento beta, sono gli angoli che ricavo. A questi angoli vanno da 0 a 1, quindi per poterli usare in modo utile, far spostare l'alieno in modo che si veda inclinando il telefono, conviene moltiplicarli per 10, in modo che abbia un'escursione più elevata. Quindi prendo il beta, lo moltiplico per 10 e lo applico alla y. Copio questo codice, quindi invece per la x vado a prendere quello che chiamiamo gamma. Ma questo già lo fa muovere, per migliorare un po' la cosa conviene aggiungere un offset, in modo che lo teniamo sempre centrato. Quindi andiamo a prendere sulla parte matematica l'elemento somma, lo copio e facciamo così. Vado ad aggiungere 100 pixel a una e all'altra, in modo da tenerlo almeno centrato, perché gli angoli che rileva il giroscopio oscillano tra 1 e meno 1. mettiamo 100 anche qua, ma questo dovremmo fare in modo che inclinando il telefono l'alieno si sposti. Allora ovviamente qui abbiamo calcolato le variabili, dobbiamo applicarle allo sprite. Quindi dobbiamo andare nella parte di canvas, quindi possiamo usare una copia di questi blocchi per impostare la x e la y, oppure usare questo, il move, che applica tutte e due le variabili in un colpo solo. Quindi trascino questo blocco e qui vado a mettergli app x e app y. Ora proviamo la nostra app, inclinando il telefono possiamo far spostare l'alieno. Quindi questa app che abbiamo visto è molto semplice, a cui poi abbiamo aggiunto il giroscopio per renderla un po' più interessante, serviva per dimostrare un po' le funzionalità del canvas. Purtroppo sono spesso perplesso di fronte a Tankable perché c'è molta poca documentazione. Tra l'altro si mischia quella vecchia con quella nuova, si trovano esempi che non funzionano più e fanno riferimento a blocchi di codice che hanno una forma differente. Quindi è abbastanza difficile, lascia un po' perplessi veramente questo approccio. Spero che questa serie di video vi abbia dato comunque qualche indicazione utile per poter iniziare a sperimentare, essere autonomi nell'uso di questo sistema. Bene, vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo domani. Ciao!